ci siamo ragazzi siamo riusciti a mettere il nostro culo su quell'aereo buono la nocciolina questi ce li sogniamo in giappone come la mangia lui la nocciolina ma questo è un po il mood ora ci prepariamo un po questo volo di 12 ore e e e leggermente delusi sono tipo cappellacci e zazza ha portato un po di parmigianini ci aspettavamo un bel secondino ma non ce l'hanno concesso mangiamo vai e ora passiamo a un cannolo scomposto secondo quello che c'è scritto così qua così ci dirà un'opera d'arte questa buono buonissimo disumano buono non ci vediamo dopo Siamo sbarcati, la prima betta in Giappone, io ho dormito più o meno 10 ore, 3 ore su 12, fate cacare Abbiamo sputacchiato per controllo Covid, siamo arrivati alla dogana, abbiamo fatto quanti? 2000 oltre Dobbiamo guardare di non avere cibo nelle valigie perché sennò ci buttano via le valigie Intanto fanno sparire i lunghetti, io ho i due panini dell'aereo, secondo me te li butto F*** Tato F***